La passione per l'Oriente e i suoi stili, le sue mode, arriva da lontano, ma in Italia ed in Europa in generale conosce un vero e proprio rilancio nel XIX secolo. Un esempio lo troviamo addirittura nella Valle dell'Arno, dove un'antica fattoria è stata trasformata in una sorta di castello incantato. Chiuso da molto tempo, inaccessibile, è stato aperto alle telecamere di Bell'Italia. Fra i tanti corridoi naturali nei quali attraverso i secoli si è incanalata la storia italiana c'è quello del Valle d'Arno superiore tra Firenze e Arezzo. Qui correva la strada per Roma, una strada importante per viaggiatori importanti. Carlo Magno, ad esempio, il futuro imperatore ci passa nell'anno 780. Dopo avere vinto e catturato desiderio ex re dei Longobardi, era andato nell'urbe per rendere omaggio al Papa. I Longobardi, Carlo Magno, l'impero, il Papa, Roma, Firenze, il Rinascimento, insomma un territorio che è una specie di concentrato di storia e di cultura occidentale. Ma in questo mare così europeo oggi c'è un'isola orientale, è il castello di San Mezzano. Il castello era un antico fortilizio. Dopo aver cambiato spesso padrone diventò una fattoria di Ferdinando de' Medici, al centro di una gigantesca tenuta di caccia che si estendeva per decine di chilometri quadrati. Nell'Ottocento la fattoria arriva in eredità a un altro Ferdinando, discendente di due illustri casate fiorentine, i Panciatichi e gli Jimenes d'Aragona. Nobile, colto e soprattutto ricchissimo, Ferdinando aveva un hobby, l'architettura, e aveva anche una teoria che l'arte europea deriva da quella orientale. Consigliere comunale a Firenze, due volte senatore del Regno d'Italia, dopo avere litigato con i concittadini e tutti quelli che non condividevano le sue teorie, decide di trasformare la tenuta in una specie di riassunto vivente delle mille e una notte. I mezzi certo non gli mancavano e neanche il carattere. I moschettieri dicevano tutti per uno, uno per tutti. Panciatichi era di parere opposto. Guardate che cosa c'è scritto qui. Todos contra nos, nos contra todos. Tutti contro noi, noi contro tutti. Un programma al quale Panciatichi si è rigorosamente attenuto per tutta la sua vita. Compignoleria pari alla competenza, Ferdinando riproduce nella villa decine di ambienti ispirati alle architetture più famose di altrettanti paesi orientali. Disegna le stanze, sceglie le decorazioni, dirige una squadra di muratori e di artigiani abilissimi e quando quelli locali non sono all'altezza in porta a mano d'opera qualificata direttamente dal vicino oriente. Ferdinando Panciati, chi liquida non fisicamente, ben inteso, ma finanziariamente la moglie e i figli, dotandoli di congrue rendite, si stabilisce qui a San Mezzano, dove per mezzo secolo lavora al suo grande progetto, realizzare, costruire un pezzo d'Oriente in un territorio che è stato il cuore, che è stato il centro del rinascimento italiano. Proprietario, committente e architetto, una posizione invidiabile. Tutti gli effetti sono calibrati con cura, dalla penombra colorata eccoci in pieno sole spagnolo. Siamo all'alambra, gli stucchi candidi sono accuratamente e rigorosamente modellati su quelli della reggia di Granada. Il campionario è impressionante, l'effetto da capogiro. Un labirinto costellato di archi, portali, capitelli, cupole, pennacchi, arabeschi, stucchi, ceramiche. Per queste allestisce una fornace nel parco della villa, da qui viene ad esempio l'altare della cappella prodotto in un unico blocco. Si cambia stile, si cambia ambiente, si cambia paese, si cambia continente. Eccoci in India, questa è la sala dei pavoni che fungeva da sala da pranzo. Ecco il calapranzi da cui arrivavano le vivande. Dettagli fedelissimi, stile mogu, con i caratteristici colori vivaci che quasi anticipano l'arte pop. Le rare volte che Fernando aveva ospiti voleva fare bella figura e soprattutto li voleva stupire. Questa era la stanza della musica. Dietro queste finestrelle stavano i musicisti che suonavano in stereofonia e con la loro colonna sonora accompagnavano i visitatori lungo tutto il percorso. Ma la cosa più stupefacente è che questo appassionato di arte moresca e persiana, indiana e mozarabica, non ha mai messo piede fuori dalla vecchia Europa. L'Oriente lo ha respirato sui libri di architettura e di viaggio. Una cosa banale è percorrere i chilometri, tutti lo sanno fare. Ben diverso e difficile assimilare la diversità. Da una parte lo spazio, dall'altra la mente. Insomma, meglio soli che male accompagnati, o quasi. Nel suo castello incantato, la solitudine di Ferdinando è sorvegliata e confortata dalla presenza di ben 17 domestici. 1853-1898, quasi mezzo secolo, il risorgimento e i primi anni del Regno d'Italia. Nel 53 Cavour prepara l'alleanza con la Francia, nel 98 Bava Beccaris spara sui dimostranti a Milano. In questo periodo così denso di eventi, Panciatichi vive qui e si occupa esclusivamente di costruire questo suo oriente nel Valdarno Fiorentino. Tanto per ribadire il concetto, nel testamento Ferdinando dispone di essere sepolto ad almeno 25 chilometri da Firenze e dai suoi detestati abitanti. A dispetto di tutti, il suo mondo se l'è creato qui su misura e come meglio ha creduto. Lo stesso criterio viene applicato al parco, che è uno dei più vasti della Toscana, sono quasi 200 ettari. Al posto di viti, olivi e grano che si trovavano qui fino più o meno a 150 anni fa, sono state impiantate in quantità enorme specie esotiche e come vedete ci si sono acclimatate benissimo. Il parco è un autentico tesoro ambientale. Spettacolare è il pratone delle sequoie, ce ne sono a decine, ben 57 sono alte più di 50 metri e sono praticamente delle neonate, hanno appena 150 anni e cresceranno altri 18 secoli. Ma dopo la morte di Ferdinando, San Mezzano perde l'anima. Cambia e ricambia padrone in una decadenza lenta e affascinante come la sua costruzione. Un fascino congelato a futura memoria in questa spettacolare campagna fotografica di Massimo Listri, edita da Idea Books. Un progetto di recupero c'è, prevede la realizzazione di una struttura ricettiva che lascia assolutamente inalterati gli ambienti. Quanto al parco sarà aperto al pubblico e alla pratica sportiva. Come merita del resto un complesso monumentale che per originalità non teme davvero rivale. Insomma un personaggio singolare che ha dato vita a un complesso altrettanto singolare. Una persona senz'altro molto ricca, ma che ha investito la sua ricchezza non in beni effimeri come troppo spesso si fa ancora oggi, bensì in un progetto culturale in cui credeva fermamente. E poi da questa storia viene fuori un'altra conclusione, cioè che i veri viaggi, in fondo i viaggi più belli, sono quelli immaginati.